Sono Federica Marangoni, un'artista multimediale, ossia opero con materiali particolari, con video, vetro e luce. Materie fondamentali del mio lavoro e le mie grandi installazioni che faccio fin dagli anni 70. Anche la luce artificiale, anche la luce dei neon, dei segnali delle città, diventata una luce importante nella nostra esistenza. Ecco perché l'ho usata per quest'opera la lettera NO, formare la parola NO, dentro dei tubi di quel neon scorre una luce rossa che si muove in continuazione dentro il tubo di un neon particolare. Si muove come scorre il sangue nelle nostre vene, al NO si contrappone la mano femminile in vetro, un vetro traslucido che si arrossa col rosso della luce. È la mano che si oppone al male, è un'affermazione forte, NO, a formare un unico segno, mano e letteri al neon. Un'opera per la fondazione, per aiutare la ricerca contro il male che ci affligge, creando un segno forte e definitivo.